Vivo Facile, buongiorno a tutti, oggi sono qui per parlarvi di prodotti da supermercato, quindi prodotti economicissimi che mi hanno stregata letteralmente. Vi parlerò di una parte di prodotti cosmetici che io sto usando in periodo estivo, quindi i miei prodotti preferiti economici da supermercato appunto del periodo estivo e aggiungerò due chicche secondo me molto molto interessanti e dal profumo bomba per quello che riguarda la detergenza della casa. Iniziamo subito. E iniziamo dai prodotti viso, scusate le unghie che me ne sono dovute tagliare che si sono rotte e è rimasto anche il vecchio smalto, insomma un po' così. Allora vi parlo di questo Beauty Fluid di Olatz, io ne ho parlato nel video sui cosmetici vintage che si possono acquistare ancora oggi. Effettivamente Olatz è un marchio, insomma, se non erro, comunque degli anni 40, aveva il nome di Olay e il Beauty Fluid è uno dei suoi cavalli di battaglia. Devo dire che a livello di Inci il Beauty Fluid di Olatz non è assolutamente nulla di eccezionale, quindi io però veramente lo trovo straordinario, soprattutto ora che è estate, veramente è di un leggero, di un profumato, di un assorbibile eccezionale. Quindi questo è uno dei pochi prodotti che io non faccio fatica ad utilizzare la mattina in questo periodo, quando mi sveglio già praticamente con la faccia lucida. Quindi questo qua addirittura è per il corpo, si dice, ma io sul corpo ho la pelle più secca, quindi utilizzo altri prodotti, mentre questo è veramente per me la svolta per quello che concerne appunto prodotti ad utilizzo mattutino in periodo estivo. Tra l'altro ragazze, chi di voi lo ha provato o quale delle mie ragazze che mi seguono ha la mamma, la nonna, la zia che lo avevano nel loro armadietto del passato, potrà concordare con me che il profumo è veramente piacevolissimo, quindi anche questo ha il suo perché. Costa poco, costa secondo me in circa 3-4 euro, però non è, ho visto, facilmente reperibile proprio in tutte le profumerie, in tutti i supermercati, comunque sicuramente su internet lo trovate. Quindi minima spesa, massima resa in questo periodo. Un'altra crema che alterno alla Beauty Fluid di Olaz, perché dovete sapere che io utilizzo diversi tipi di crema, mi piace usarne un giorno una, un giorno l'altra, purché rispettino certe caratteristiche, ad esempio il fatto di essere leggere in estate, è la Etuale di Rougie. Questa è la Collagen Boost, esiste anche la Yaluronic Boost, quindi ognuna ha prevalentemente un ingrediente principale, questo è il collagene. È meravigliosa, questa è una crema da farmacia, ma ragazzi lo trovate ad un prezzo veramente da supermercato. Se non sbaglio io ne avrò pagate due creme, perché spesso ci sono le offerte in farmacia sui 20 euro, 14 euro, non mi ricordo, comunque meno di 10 euro l'una, 30 ml è vero, ma veramente delle creme molto buone, la Rougie, spero si dica così, è un marchio molto molto buono. Questa però, ve lo dico, contiene di meticone, a me non me ne frega nulla, sinceramente. È una crema ottima, che lascia la pelle settificata, che lascia la pelle ben asciutta, quindi leggera, ma assolutamente, veramente piacevole. Vedete qua, io l'ho, insomma ormai siamo quasi alla fine, utilizzata tantissimo. Mi piace utilizzarla, devo dire, scusate, anche in inverno, perché lascia la pelle così setosa, così liscia, che proprio sembra una vera, un vero trattamento di bellezza immediato. E per chi ama i prodotti con ingredienti naturali, abbiamo veramente un, una chicca, una chicca, un classico, devo dire, nel senso che stiamo parlando di acqua di rose, quindi un classicissimo, però molti so che cercano la versione con ingredienti di origine naturale. Eccola qua, Nae, naturale antica erboristeria, questa qua è EcoCert Cosmos Organic, è una formula vegana, 99% di ingredienti di origine naturale. Questa io la uso tantissimo, non solo per me, ma anche per i miei bambini, quindi come tonico. Questa l'ho presa alla S lunga, l'avrò pagata 7-8 euro, non credo di più, mi piace tantissimo. Tra l'altro, il profumo è proprio molto delicato, non invadente, il classico profumo di, appunto, acqua di rose. Però, ecco, niente, tra l'altro le rose utilizzate all'interno di questo prodotto sono, ecco, biologiche, questo ci tengo a dirlo. Contiene anche altri ingredienti, tra cui, appunto, la glicerina. Comunque, è veramente buona, un profumo delicato, appunto, molto rispettosa della pelle, non contiene particolari conservanti aggressivi, quindi questa qua, secondo me, è una chicca un po' buona per chi cerca un'acqua di rose Eco Bio. Vabbè, ragazzi, pasta di Hoffman, lo sapete, ve la rifilerò in tutte le salse, in qualsiasi video, perché per me è il non plus ultra. Questa va tenuta sempre, secondo me, in casa, perché prima o poi ognuno di noi ne ha bisogno. Parliamo di una pasta con un concentrato di ossido di zinco elevatissimo, quindi questa pasta di Hoffman si utilizza per tantissime cose. In questo periodo, soprattutto, si usa per le parti che sfregano, ad esempio, tante amiche mi dicono, Chiara, mi dà fastidio lo sfregamento, ad esempio, delle cosce, dell'interno coscia, in questo periodo di caldo in cui usiamo le gonne. Allora, consiglio pasta di Hoffman. Oppure, addirittura, sotto le ascelle c'è chi ha dei rossori molto fastidiosi, anche dolorosi, pasta di Hoffman di nuovo. Oppure, semplicemente, come top sulla nostra pelle, ogni mattina, ogni giorno, per ricreare una protezione solare. Perché voi sapete che l'ossido di zinco, soprattutto in quantitativi elevati, è un filtro solare fisico, quindi viene proprio utilizzato nelle creme solari Eco Bio come filtro solare. Ed è importantissimo utilizzarlo, soprattutto in questo periodo, non soltanto perché vogliamo prevenire il più possibile brutte malattie come i melanomi, ma anche perché vogliamo mantenere la nostra pelle bella e giovane, e quindi dobbiamo proteggerla dal sole coccente. Quindi, pasta di Hoffman, dopo aver messo i nostri prodotti di bellezza del mattino, un velo sottilissimo, in modo che si assorba e che non rimanga la scia bianca. Quindi, pasta di Hoffman, sempre. Questa ormai è finita, ma io la adoro botanica. Maschera all'argilla, ve l'ho presentata nei migliori prodotti di MD. Un euro e pochi spicci, forse siamo sotto i due euro, anzi sicuramente. Questa è meravigliosa, già pronta. Ve ne sono anche altre versioni, quindi quella rosa e quella gialla, ma tutte quante fanno comunque il loro compito di purificare molto bene la pelle. La mia pelle, che è delicata, l'ha tollerata molto bene. A parte un leggero pizzicore iniziale, ma che non è sfociato in rossori, questa è la mia maschera del momento. Veloce, facile da applicare, senza tanti discorsi, con tanti, devo dire, belli ingredienti. Ve lo dico, al Cetearil Alcol, al terzo o quarto posto dell'Inci, quindi chi non sopporta l'alcol probabilmente potrebbe non essere titolato ad utilizzarla. Però io, che di solito l'alcol non lo supporto, l'ho tollerata molto bene. Abbiamo tanti ingredienti belli, dal burro di careté, abbiamo gli estratti di limone, di camelia, abbiamo la lecitina, insomma tutta una serie di ingredienti carini, la vitamina E, oltre naturalmente all'argilla, che ce la rendono quindi una maschera completa, purificante, ma anche illuminante. Mi piace tantissimo. E qui parliamo di Bortalco, deodorante per le ascelle. Io uso il deodorante Bortalco, credo, da quando avevo 15 o 16 anni, o pochi anni di più. Cioè è uno dei prodotti più longevi che io utilizzo nella mia vita. È l'unico prodotto che veramente funziona su una sudorazione importante. L'unico prodotto che tu arrivi a sera e sei assolutamente profumato. Così profumato che tante persone mi chiedono, ma che profumo ti sei messa? In realtà sono le mie ascelle. Adoro. Tra l'altro questa profumazione, profumo di cedro e lime, è una bomba, è spettacolare. Veramente questo è un deodorante con i fiocchi e i controfiocchi. Se voi soffrite di sudorazione importante, io ve lo consiglio. Provatelo perché secondo me non ve ne pentirete. Ne ho provati di tutti i tipi, nessuno è mai riuscito a garantirmi i risultati di Bortalco. Anche il classico, quindi tutte le profumazioni hanno lo stesso effetto bomba, ma soprattutto il classico è questo qua, profumo di cedro e lime. Io tra l'altro lo acquisto in varie formulazioni, quindi questo qua che è in Deo Spray, ma anche il Roll-On, ma anche il Roll-On compatto. E tutti i Bortalco mi garantiscono sempre lo stesso risultato grandioso. Quindi io da quando uso Bortalco non ho più assolutamente problemi imbarazzanti di sudorazione, insomma non proprio gradevole. Quindi ve lo consiglio, costa pochi euro, spesso in offerta, quindi meraviglioso. Ricce, mi state ascoltando? Oppure anche voi che avete i capelli lisci, ma avete bisogno di qualcosa che vada a proteggervi, a nutrirvi un po' i capelli, soprattutto ora che c'è un sole bello forte, ora che andiamo al mare, eccetera. Eccolo qua, il Vatica Oil. Questo qua è nella confezione da 150 ml, quindi una confezione molto piccola, che potete portare con voi ovunque. Questo si trova nei negozi etnici. È un olio di cocco arricchito con tutta una serie di ingredienti, come l'enne, come l'hamla, come il limone, assolutamente utilissimi per rendere i capelli lucidi e sani. Un profumo molto speziato, che a me, devo dire, piace tantissimo. Io lo uso in tantissime occasioni, quindi sia la mattina come leave-in, dopo avere inumidito i capelli, sia come impacco per shampoo, sia anche appunto al mare, andando a spruzzare con uno spruzzino acqua dolce sui capelli e applicando appunto l'olio di cocco arricchito. Che sapete, l'olio di cocco ha anche un leggero fattore di protezione solare, quindi protegge un pochino anche i capelli dall'aggressione esterna. Quindi questo è un olio per capelli, secondo me, meraviglioso. Tra l'altro, se molti vaticano e non hanno dei buoni ingredienti, questo assolutamente ha dei buoni ingredienti. Abbiamo l'olio di cocco, abbiamo l'estratto di neem, l'estratto di brami, centella asiatica, l'ecitina, l'hamla. Cioè, veramente, questo è super, super arricchito. Io questo lo consiglierei a chiunque. Ripeto, anche nella misura di poche gocce, a chi ha i capelli lisci, è straordinario, tra l'altro, un profumo, secondo me, buonissimo. E come crema per il corpo, in questo periodo, mi sto finendo questa, la Queen Helen Cocoa Butter, che tra l'altro io ho già comprato in passato, quindi non è il primo flacone che utilizzo, Hand and Body Lotion. Anche questa l'avrete vista, forse, nel mio video, sui cosmetici vintage che potete trovare ancora oggi, perché è un marchio Queen Helen, tra l'altro sempre con questo logo, che esiste dal 1930, quindi è assolutamente vintage. È una crema per la pelle secca, un profumo buonissimo di burro di cacao, contiene, però ha una formulazione anche molto ben applicabile, nel senso che è leggera. Quindi, in questo periodo di caldo, è la crema migliore, che unisce per il corpo, appunto, questo fattore molto, molto nutriente, ha una leggerezza veramente importante, che noi amiamo, proprio perché le creme pesanti in questo periodo possono essere fastidiose. Questa qua costa veramente pochissimo, si trova facilmente anche lì nei negozi etnici, contiene paraffina, questo ve lo dico, quindi che lo sappiate a chi non ama le creme con paraffina. E poi mi sto facendo anche fuori la Cien Soft, questo sarebbe il dupe, diciamo così, della famosa Niva Soft, 24 ore di idratazione, con olio di jojoba e olio di, e scusate, burro di karité, non mi entusiasma, sono sincera, però me la voglio finire, quindi la stiamo utilizzando io e i miei bambini sulla pelle del corpo. Qui ti dice anche Face and Hands, però, secondo me, insomma, non è proprio indicatissima. Ha un bel contenuto, subito a bomba, di Ceteril Alcol, ed è forse per questo che, una volta io la usai sulla pelle di mia figlia, che era leggermente arrossata, e, ragazzi, divenne fuoco, quindi l'ho dovuta lavare immediatamente. Noi abbiamo la pelle così, probabilmente sensibile all'alcol, e quindi, in momenti in cui la nostra pelle è più delicata, questa non è la crema sicuramente indicata. Però, per un'idratazione, diciamo, molto basica, quotidiana e per il corpo, può andare, infatti noi in questo periodo, comunque, dopo la doccia la utilizziamo, e una crema senza infamia ne lode, insomma. Non è particolarmente untuosa, però lascia la pelle abbastanza compatta, abbastanza idratata, barra nutrita. Questa la trovate al Lidl, e la trovate anche nel mio video sui dupe di prodotti famosi fatti da Sienne. E qui, invece, siamo su una chicca assoluta, la adoro, pochissimi euro, due euro scarsi, di Balea, comprata al DM, spero si dica così, anzi, secondo me non si dice così, perché è tedesco. Questo è un meraviglioso unguento, i tedeschi usano tantissimo gli unguenti, alla calendula, 250 ml, questo è un unguento che dovrebbe creare proprio una barriera tra la nostra pelle e il mondo esterno, mantenendo l'idratazione sotto in maniera più prolungata. Io la uso tantissimo di sera, ha un profumo, ragazzi, straordinario, è una crema che contiene naturalmente, cioè un unguento petrolato e paraffina, che è un tipico ingrediente degli unguenti, ma che poi contiene anche l'olio di girasole, naturalmente la calendula, e anche estratti di carota e vitamina E. E contiene anche beta carotene, cioè è proprio la crema alla carota, una cosa meravigliosa, guardate che colore, cioè mi viene voglia di mangiarla, sembra gelatina. Ah, meravigliosa. Io questa la sto adorando, perché la utilizzo appunto tanto in questo periodo estivo come post, diciamo post mare, quindi come crema dopo sole, vado a mettere sotto una crema molto leggera, che sia quella per il viso, quella per il corpo, e poi applico uno strato sottile di questo unguento, che quindi va a mantenere l'idratazione più a lungo, e si vede perché la mattina dopo la pelle è veramente nutrita, luminosa, eccetera. Quindi questo è straordinario, tra l'altro, vabbè, lo sapete, la calendula ha proprietà lenitive, quindi è assolutamente ideale, come dopo sole, e poi vabbè, carota, betacarotene, quindi tutti questi ingredienti arancioni adattissimi a rendere la nostra pelle pronta per l'estate, nutrita, luminosa. Questa è invece una chicca acquistata su Amazon, che però voglio condividere con voi, è un gel per capelli di origine naturale. Io, mettendo ogni tanto il gel sui capelli del mio bimbo, facendogli un po' di crescita, diciamo così, cerco ovviamente un gel che non abbia ingredienti dannosi, il gel sulla lunga, io non lo so come reagisce, però, insomma, il gel ha tutta una serie di ingredienti che, boh, su un bambino e alla lunga, non lo so quanto possano essere benefici, sia per la cute, che comunque, un minimo, un minimo assorbe il gel, sia anche per i capelli. Quindi io ho voluto acquistare su Amazon, perché in giro difficilmente se ne trovano, un gel 98% di origine naturale, tra l'altro funziona molto bene, ha un buon fissaggio, questo qua della Nature Moi, e funziona molto bene, quindi tiene, tiene bene, e questo, l'unica cosa è che è un po' appiccicoso, forse perché è a base di zucchero, quindi figuratevi, è appiccicoso, bisogna lavarsi poi un po' le mani, ma va via abbastanza velocemente questo effetto appiccicoso, sui capelli, rimane, devo dire, un buon risultato simile, a quello di tutti gli altri gel in commercio. Quindi se voi cercate per i vostri bimbi, un gel di origine naturale, totalmente, eccolo qua, Nature Moi, questi sono gli ingredienti, quindi acqua, estratto di zucchero bianco, glicerina, sorbitolo, e alcuni conservanti, quindi diciamo che è fatto molto bene, uno dei pochi che si trovano e che hanno un prezzo anche abbastanza buono, siamo sugli 8 euro, però per me ne vale la pena, perché appunto mettendolo sulla testa di un bimbo, credo che sia giusto cercare qualcosa di più delicato possibile. E poi ragazze, i prodottini top del periodo per il bagno, questo è un profumosissimo, il fabuloso, per me il fabuloso lavanda, vabbè lo sapete, io amo la lavanda, è il top, è il top assolutamente, lascia un profumo bomba, tra l'altro cosa succede? Che io utilizzando anche il fabuloso per pavimenti, poi vado, quello per pavimenti non è solo adeguato per i pavimenti, ma è anche adatto per le superfici lavabili, quindi io poi vado a riempirlo, vado a riempire questo dispenser con il fabuloso per pavimenti, che va benissimo, uguale ovviamente a un prodotto a risciacquo, nel caso in cui lo si usi per i sanitari. Questo vi lascia una profumazione in bagno straordinaria per ore, quindi anche se voi poi durante la giornata andate a sforzare questo, così ogni tanto nel gabinetto, piuttosto che nello scopettino del bagno, avete poi una profumazione veramente continua nei vostri sanitari, sanitari, quindi meraviglioso secondo me. E adesso preparatevi perché un ammorbidente che più profumato non si può, e ve lo dice una che sperimenta tanto gli ammorbidenti, ve lo dice una che ha un'acqua super calcarea, quindi molto ostica nei confronti delle profumazioni, dei prodotti da lavatrice, ve lo dice una che non è spesso soddisfatta da parte degli ammorbidenti. Faccio molta fatica a trovare ammorbidenti che ne valgano la pena, ma questo, ragazzi, una bomba. Felce azzurra, pura freschezza. Questa confezione da 80 lavaggi, quindi sono due litri di concentrato, questo è un ammorbidente concentrato, è una bomba. Questo mi lascia i capi profumati, ragazzi, per settimane. Giusto ieri ho fatto il cambio delle lenzuola, e ovviamente io le cambio, le turno, no? Come dire, faccio a turno, proprio per avere fantasie diverse, e le lenzuola che ho tirato fuori erano almeno un mesetto che non le tiravo fuori, Belandi, lo dico in genovese, scusate, mi è scappato un belin, è così, siamo genovesi, è veramente una bomba. Cioè, il profumo intenso rimane subito, rimane a distanza di tantissimo tempo. Questo lo trovate, tra l'altro, molto, molto spesso da Lidl, in offerta. Infatti io l'ho preso lì, ma lo trovate in qualsiasi supermercato, in qualsiasi profumeria, negozio di detergenza. Quindi felce azzura, però, ricordate pura freschezza. Provatelo e mi saprete dire. E io, con questo, ho concluso il mio video lunghissimo di 20 minuti. Mi piace fare video concentrati, quindi prendetevi del tempo se vi va di vederlo tutto. Vi ringrazio per avermi seguito, per i bellissimi riscontri che mi lasciate. Vi rimando ad un prossimo appuntamento. Ciao, buona estate.